Sì, abbiamo lavorato solito in questi giorni, comunque perché eravamo partiti male con la Lucchese e subito abbiamo lavorato sulla partenza, infatti con l'Olbia subito siamo andati in vantaggio dopo poco e oggi purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni subito proprio, però si è visto al secondo tempo che lavoravamo bene e quindi siamo riusciti a vincere alla fine. Sì, finalmente sono riuscito a entrare, quest'oggi comunque, il mister ci ha dato fiducia in questi giorni anche perché ci ha visto che in settimana abbiamo lavorato bene e sono molto contento infatti oggi. Sì, è vero, io all'inizio non lo sapevo perché non lo conoscevo, però subito si è rivelato pronto a farci entrare appena noi ci siamo, gli abbiamo risposto, abbiamo subito delle risposte e lui ci ha dato la possibilità come oggi a me. Sì, sì, noi puntiamo tutti a vincerle queste partite, comunque perché il mister ci dice sempre che dobbiamo entrare in campo per vincere e secondo me faremo molto bene perché ho visto che stiamo migliorando sempre di più e non accusiamo neanche la fatica se devo ammetterlo.